Dal 1 gennaio addio alle buste di plastica, fedeli compagni delle Massai, ma troppo inquinanti. Saranno sostituite a poco a poco con i sacchetti biodegradabili. Una scelta di attenzione all'ambiente, ma non solo, perché conti alla mano, la pratica del riutilizzo si tradurrà anche in un piccolo risparmio per i consumatori. La nostra piccola parte, andando a fare la spesa, la facciamo, ed è varicolato che stiamo togliendo dalle nostre strade, dai nostri mari, soprattutto, perché quello è il principale inquinamento che dobbiamo considerare, veramente moltissime tonnellate di petrolio. Ogni italiano consuma 300 shoppers all'anno che in media, stando ai dati di legambiente, corrispondono a 4 kg di plastica a testa, cioè a 10 kg di CO2 emessa. Con i sacchetti ecologici, dice l'Associazione Ambientalista, si ottiene un risparmio in termini di emissioni di CO2 annua, che rappresenta l'1-2% dell'obiettivo che l'Italia si deve porre nel rispetto del protocollo di Kyoto. Stanno recependo il messaggio, in realtà attorno a questa misura c'è un consenso abbastanza diffuso. Certo, si fa fatica all'inizio ad abituarsi, in particolar modo si fa fatica ad abituarsi alle opzioni più ecologiche, più corrette che quelle di portarsi il sacchetto riutilizzabile da casa. Infatti, l'obiettivo non è sostituire i vecchi sacchetti con i nuovi biodegradabili in rapporto uno a uno. Il vero successo sarà cambiare le abitudini, usare e riusare le sporte o come molte signore fanno già, ricorrere ai piccoli trolley per caricare la spesa. In ogni caso, i vecchi sacchetti di plastica potranno ancora essere distribuiti, ma gratuitamente, fino ad aprile.